Il bilancio per tutto l'anno è senz'altro positivo perché abbiamo avuto un sacco di risultati a livello giovanile e anche a livello di senior. Per quanto riguarda invece questo torneo, il torneo di Natale è la quarta edizione, ha avuto un enorme successo e abbiamo abbinato il torneo di ping pong e quindi complessivamente abbiamo avuto più di 150 partecipanti tra il tennis e il ping pong, ragazzi di Alcamo, di Trappeto, di Balestrade, insomma è andato bene. Noi abbiamo una bella realtà, abbiamo un bevaio di che già siamo più di 50 bambini tra gli undernome fino agli under 14, cresciamo continuamente e siamo fiduciosi che possa qua a Partinico avere una buona formazione a livello di tutti i livelli. La struttura c'è perché abbiamo cinque campi e quindi questo ci permette di organizzare anche le tornei a livello grosso e di poter risfruttare tutti i campi, quasi spesso, giornalmente sono sempre pieni, quindi vuol dire che c'è voglia di tennis. Le famiglie a volte non consigliano di fare il tennis perché pensano che sia uno sport asimmetrico e questo non è vero.